La serata come questa per me è un sogno, cioè poter festeggiare il ritorno nei professionisti della Fermana. Io posso dirlo con altri, ricordavamo l'ultima giornata a Lumezzane della Fermana tra i professionisti, quando l'abbiamo lasciata quella Serie C, ci è rimasta nel cuore, veramente. Grazie a quello che hanno fatto questi ragazzi, l'allenatore di questa società, veramente grazie e questo che si vede oggi credo che sia importantissimo. Un saluto a tutti i tifosi e ci rivediamo allo stadio. Grazie, grazie veramente.